buon salve avete non so più parlare dicevo avete appena fatto un disegno o comunque volete fare un disegno che volete poi anche stampare per farci un bel poster insomma e averlo anche materialmente ma non sapete in che modo impostare il foglio digitale all'interno del vostro programma già perché avete intenzione di disegnare in digitale ora in questo caso andremo a vedere col nostro ipad le impostazioni ideali per poter disegnare il nostro disegno e poterlo anche stampare spesso mi viene chiesto appunto ma quanti dpi le dimensioni il metodo di colore eccetera quindi andiamo a vedere in questo caso sul programma procreate ma in generale tantissimi altri programmi hanno sempre queste impostazioni comunque permettono nel momento in cui si va a creare un nuovo documento di settare le impostazioni il progetto i dpi e anche il profilo colore quindi andiamo per ordine intanto creiamo un nuovo file quindi andiamo a creare un nuovo documento cliccando qui sul più in questo caso su procreate e cliccando non su uno dei tanti vari preset perché non vogliamo utilizzare un preset ma vogliamo impostare il nostro il nostro nuovo foglio quindi clicchiamo qui ora qui si aprono una serie di impostazioni allora qui abbiamo la larghezza l'altezza e dpi e la quantità di livelli massima vabbè questa qua dipende dal programma che utilizzate in questo caso procreate ha questa limitazione cioè che più sono grandi progetti più cioè meno livelli puoi puoi fare prima di tutto la larghezza e l'altezza ora banalmente qui siete magari un po titubanti perché vedete la larghezza e l'altezza in pixel e quindi potreste essere un po confusi non sapete quanti pixel dovete mettere 3000 4000 5000 però la cosa che vi consiglio è cliccando qui andare a impostare la l'unità di misura in centimetri o in millimetri insomma che è un'unità di misura che già ci è più familiare quindi piuttosto che andare a ragionare andare a ragionare in pixel che a 3000 pixel non si sa in centimetri poi durante la stampa quanto a quanto corrispondono magari andiamo direttamente a pensare al nostro poster finale alle dimensioni del nostro poster e impostarle all'interno del nostro documento quindi io voglio realizzare un disegno che poi tradursi in un poster di larghezza 50 centimetri e altezza 70 centimetri vado aspetta fermi tutti un attimo 5 e io 50 centimetri ora non mi fa rabbia 50 ricominciamo quindi impostiamo in centimetri e qui scriviamo 50 e qui mettiamo 70 centimetri o comunque se fosse in millimetri sarebbe 700 700 millimetri e 500 millimetri che la cosa migliore è settarlo direttamente in millimetri perché altrimenti in centimetri li arrotonda un po quindi ragionate più che altro in millimetri 500 millimetri 700 millimetri ora qui entriamo nella faccenda spinosa e cioè i dpi i dpi sono praticamente la densità di pixel per pollice però diciamo che per consuetudine quando si va a ragionare con la stampa si inserisce un numero di dpi che di solito non è inferiore ai 300 quindi mettiamo 300 nel caso in cui invece si va a realizzare un'illustrazione un'immagine che comunque deve andare sul web allora lì i dpi non sono 300 sono sicuramente inferiori ma in questo caso vogliamo fare un poster quindi impostiamo 300 queste sono le nostre prime impostazioni 500 millimetri 700 millimetri 300 dpi proclite ci dice che avremo soltanto 34 livelli ma con altri programmi non si hanno questo genere di problematiche ora non è finito qui perché ovviamente c'è un'altra cosa molto importante ed è il colore una cosa che dobbiamo tenere a mente sicuramente è che i colori che vediamo in digitale non sono effettivamente quelli che verranno in stampa e questa qua è diciamo la problematica principale per cui vengono fatto un sacco di prove di stampa perché la stampa non ha i colori brillanti come quelli che vediamo qui su uno schermo quindi una cosa importantissima andare qui su profilo colore anche qui la scelta del profilo colore ce l'hanno praticamente tutti quanti i programmi di illustrazione disegno di fotografia eccetera e l'impostazione che dobbiamo settare quindi che dobbiamo che dobbiamo mettere è quella del cmk quindi che cosa significa rgb e cmk sono sostanzialmente i colori che fanno parte della nostra immagine i colori alla base della nostra immagine se mettiamo rgb vuol dire che è rosso verde e blu red green e blu cmk però invece sono i colori che vengono utilizzati in fase di stampa quindi ciano magenta giallo e nero quindi la per avere dei colori più veritieri a quelli della stampa dobbiamo impostare cmk ma fermi tutti fermi tutti perché non vi consiglierei di mettere già questa impostazione cioè se state per realizzare un'illustrazione quindi state settando il documento per poterci disegnare sopra impostare direttamente cmk significa lavorare con dei colori che di base sono falsati capito sono castrati per in brillantezza e luminosità perché sono più vicini a quelli della stampa una cosa per me è molto scomodo soprattutto se poi sto ancora realizzando l'illustrazione quando vado a poi ad applicare degli effetti con le curve con le cose per modificare il colore mi trovo scomodo quindi quello che vi direi è per ora se dovete ancora realizzare l'illustrazione è utilizzate rgb qui ci sono una serie di impostazioni rgb ne prendete una ora sinceramente qui ci sono differenze minime per quanto riguarda per quanto riguarda questa questi settaggi qua però selezionate una e cliccate su crea in questa maniera avete sicuramente le dimensioni del vostro progetto adatte per poter stampare create fate insomma il vostro disegnino ie 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 e dopo aver finito il disegno però in questo caso è importantissimo non mandarlo direttamente in stampa ma di aggiungere un passaggio in più proprio perché non abbiamo selezionato cmk quindi avendo disegnato il nostro disegno in rgb vuol dire che andiamo a prendere per esempio un disegno esempio tipo non so questo qui ecco avendolo realizzato in rgb vuol dire che questi colori non saranno mai visibili in questo modo in stampa questo rosso non sarà mai così saturo quindi quello che dobbiamo fare è prendere questo disegno e inserirlo all'interno di un documento cmk o comunque cambiare il metodo di la visione del colore insomma da rgb a cmk purtroppo procreate non permette di farlo ma se già utilizzate photoshop vi basta andare nelle impostazioni del vostro documento e dove c'è scritto profilo colore selezionare cmk invece di rgb con photoshop con photoshop è proprio un click mentre in questo caso non potendo modificarlo in seguito quello che dobbiamo fare è salvare la nostra immagine quindi condividi meglio non jpg con salvatelo alla miglior risoluzione possibile quindi non so magari png ecco e poi creando un nuovo documento delle dimensioni delle dimensioni del nostro poster come abbiamo visto prima quindi per esempio come dicevamo prima 500 700 300 impostare però questa volta il profilo colore in cmk già abbiamo il nostro documento con le impostazioni corrette questa volta anche con le impostazioni colore corrette e quindi inserendo la nostra immagine andando su aggiungi inserisce una foto inserendo il nostro disegno che in questo caso è più piccolo perché l'ho fatto l'ho disegnato più piccolo ma se l'avete disegnato con le impostazioni del documento di prima sarà delle dimensioni giuste non volevo non volevo ruotarlo ecco quindi sarà così in questo caso qui il disegno verrà rielaborato con le nuove impostazioni colore e infatti se vedete i colori sono sono più smorti il rosso ora magari qui dalla fotocamera non si vede però il rosso è molto più desaturato è molto più spento e in questo modo qui ovviamente voi direte cavolo tutti quei bellissimi colori che avevo impostato selezionato nel momento di creazione di questa illustrazione non sono più quelli che volevo e quindi quello che potete fare adesso avendo la visione dei colori più corretta è con una serie di livelli di regolazione o comunque con le curve eccetera andare a modificare un po i colori per farli tornare un po come come vi aggradano di più quindi andare qui nelle nelle curve e modificare un po le curve per farlo un po più chiaro anche qui nella tonalità nel bilanciamento colore andare a modificare queste impostazioni di bilanciamento colore insomma non potrà mai tornare al metodo di visualizzazione insomma che avevate con l'rgb ma non è quello che vogliamo non potendo ottenere quell'effetto su sul nostro poster sulla nostra stampa quello che vogliamo è effettuare una serie di correzioni colore per rendere il colore più simile possibile comunque al nostro risultato finale e dopo che abbiamo fatto queste ulteriori regolazioni di colore eccolo qui questo qua è il nostro file che può andare stampa con le dimensioni che abbiamo scelto del nostro poster con i dpi giusti per la stampa e con il profilo giusto per la stampa prendete il il file in questione salvatelo in cmk quindi ricordatevi questo di salvarlo in cmk e portatelo direttamente alla vostra tipografia e ve la stamperà anche lì i colori non è difficile non saranno mai al 100% quelli è il motivo per cui si continuano comunque a fare delle prove perché comunque lo schermo del nostro ipad o comunque lo schermo su cui stiamo guardando il disegno ha le sue impostazioni ai suoi settaggi il suo profilo colore anche lì comunque entra in gioco tanti tanti fattori per cui bisogna sempre fare più prove di stampa e modificare i colori man mano per vedere però intanto queste qua sono le impostazioni più giuste per potersi assicurare un risultato più veritiero possibile ah è un ultimissimo appunto per quanto riguarda le dimensioni del progetto noi abbiamo impostato 50 per 70 perché il poster finale è di questa dimensione però assicuratevi insomma in base al tipo di stampa eccetera che le dimensioni siano effettivamente quelle necessarie per poter andare in stampa spesso magari per realizzare un poster 50 per 70 ci sono dei margini che poi vengono tagliati quindi in realtà la dimensione corretta è 50 centimetri virgola 4 o cose di questo tipo oppure 51 centimetri quindi assicuratevi insomma che non ci siano insomma che non ci siano dei margini da tenere in considerazione e nel caso comunque settate correttamente il vostro progetto con quelle dimensioni detto questo detto questo nulla questo è tutto quello che avevo da dire spero che questo possa esservi utile a prescindere dal programma che utilizzate e che possano uscire fuori tanti bei poster con i vostri disegni ci vediamo presto iscrivetevi al canale ciao ciao